2 milioni di euro è la cifra che il comune di Ragusa deve all'Enel per una fatturazione tra ottobre 2015 e settembre 2016. 11 mesi di fornitura dell'energia elettrica che il comune di Ragusa non avrebbe mai pagato, risultando oggi depitore. Da una scrittura privata tra l'ente comunale e la gala S.P.A., società che fornisce l'energia elettrica in regime di Consip, datata 20 maggio 2016, si evince un debito maturato, con interessi pari a quasi 2 milioni e 53 mila euro. Spunta così un piano di rientro del debito, su cui aveva già puntato il dito durante la civica assise la scorsa settimana Sonia Migliore del Laboratorio 2.0. Il piano di rientro prevede un pagamento rateale con rate di 342 mila euro, da versare ogni 15 del mese a partire proprio da questo giugno fino a metà novembre. Un accordo inflessibile a cui il comune di Ragusa deve sottostare alla lettera pena la risoluzione dell'accordo stesso. Debiti che si aggiungono a debiti, dato che il comune ragusano ha già altri da onorare per forniture di gas ed elettricità, per cui sono stati accumulati 182 mila euro di debiti, anche se a seguito di una buonare a risoluzione, questo debito dovrebbe essere stato ridotto a 91.300 mila euro. Questa tranche di debiti risale a forniture tra il 2010 e il 2012 e l'E nel fine novembre 2015. Sonia Migliore ha attaccato duramente nel corso del Consiglio Comunale, sostenendo la responsabilità dell'attuale amministrazione più che di quelle precedenti. La Giunta però da parte sua ha già invece mostrato il chiaro e scandito piano di rientro per il debito stesso. Grazie.